ciao amici di q o qui tornato adesso grazie ad andressa e chiara che oggi non l'hanno mollato un secondo e approdato qui a casa da me perché così fa al calduccio e per dieci giorni ne avrà è stato operato solo alla gamba sinistra perché la destra era perfetta fa un po male al cuore rivederlo con questo collare di nuovo così quando lui aveva riacquisito tanta vitalità ma speriamo che sia l'ultimo gradino per poi iniziare a correre e topino e quindi questo messaggio osseralissimo perché lui ha bisogno di riposare noi anche se è stata una giornata di tensione ciao a tutti e grazie